Allora, fuori quasi picchi e fiori, scorro le carte in questo modo, facciamo scorrere al contrario, e quando vuoi mi dici stop, stop, ok, mi hai fermato qui, questa è la tua carta, guardala, ricordala, ok, benissimo, io la metto ora in centro al mazzo, in un punto qualsiasi, così disperso, per fare questo gioco mi sono dovuto preparare 4 carte, 1, 2, 3 e 4, queste 4 carte sono i 4 assi, 1, 2, 3, 4 assi, te li faccio anche vedere, ok, ora io devo cercare di prendere la carta da te scelta, dal mazzo e portarla qui, in mezzo ai miei 4 assi, quindi la prendo, la lancio in aria, ed entra una carta blu, in un mazzo rosso è entrata una carta blu, che carta era la tua carta? L'otto di cuori, vediamo che carta è questa carta blu, è un otto di cuori, quindi si è trasformata, è diventata una carta blu, allora io l'otto di cuori lo prendo, lo metto sul tavolo, e ora ti faccio vedere un'altra cosa, guarda gli assi, sono diventati blu anche loro, ma la cosa ancora più bella, è tutto un mazzo da rossa, è diventato blu, e il tuo otto di cuori è ritornato ad essere una carta rossa.